Balduccelli Traslochi, professionisti in traslochi e sgomberi. Nel corso degli anni l'azienda Balduccelli Traslochi si è fatta apprezzare dalla sua clientela svolgendo l'intero servizio di trasloco in maniera sempre impeccabile e professionale, dalla partenza fino alla destinazione. Tutte le operazioni di imballaggio, sballaggio, montaggio e smontaggio vengono effettuate con la massima cura ed efficienza. L'azienda è specializzata in traslochi nazionali e internazionali e riesce a risolvere ogni tipo di problema inerente al trasferimento, garantendo sempre un servizio di qualità. Il vasto parco mezzi e il personale esperto e altamente specializzato sono al servizio della clientela per garantire servizi precisi e puntuali, proposti a prezzi competitivi. Balduccelli Traslochi. Qualità e professionalità.